Musica Frane sulla SR325, la regione finanzia con 3 milioni e mezzo di euro i primi interventi di ripristino. Saranno studiati progetti per viabilità alternative. Radiocomunicazione, la regione stila nuove linee guida per i piani delle antenne dei comuni. L'aula approva all'unanimità una mozione per il cessato e il fuoco immediato della guerra nella striscia di Gaza. Frane sulla SR325, gli interventi della regione. La tempistica per il ripristino totale della circolazione a doppio senso di marcia sulla SR325 sarà precisabile al termine delle verifiche sulla stabilità dei versanti attualmente in corso. Così l'assessore regionale Stefano Baccelli ha risposto in aula alle interrogazioni di Silvia Noferi del Movimento 5 Stelle e di Elena Meini della Lega in merito alle frane che hanno bloccato la strada regionale 325 nella Val di Bisenzio. L'assessore alle infrastrutture ha aggiunto che è in programma un'intesa con gli enti locali per studiare le alternative progettuali alla 325 anche al fine di evitare imprevisti e ulteriori emergenze. Gli approfondimenti riguarderanno anche il servizio ferroviario integrato con il sistema su gomma. La regione toscana, assieme alla provincia di Prato, è impegnata sulla frana alle coste e su quella nel territorio di Vernio per le verifiche di stabilità, la messa in sicurezza e insomma urgenza finalizzata alla riapertura in un primo momento a senso unico alternato. Il presidente Gianni con l'assessore Cioffo hanno compiuto un sopralluogo e presto sarà fatto uno studio di fattibilità con percorsi alternativi alla 325 e per progettare una galleria artificiale alle coste per proteggere l'area della frana. Noi abbiamo chiesto quale azioni la regione intendeva intraprendere sul rischio idrogeologico, sull'intervento per tutti i cittadini di quell'area, tutte le imprese che in questo momento stanno soffrendo quel blocco. Con quella interrogazione nulla di questo ci è stato risposto, ancora oggi sono tante le risposte alle nostre domande che rimangono in evase. Non sappiamo quali sono le volontà, non sappiamo se partirà uno studio, non sappiamo quando e come si interfacceranno con il governo centrale e noi anche qui ribadiamo la nostra disponibilità a voler collaborare perché quello è un territorio che ha già sofferto molto anche dall'alluvione, è un territorio, il distretto della moda, che ha bisogno anche da parte delle istituzioni di un confronto serrato e di un aiuto importante per risolvere il problema annoso della frana. Attendiamo che l'assessore Baccelli, magari in via informale, ci coinvolga perché noi siamo pronti anche ad accompagnarlo a Roma e ad andare a chiedere al ministro competente e al governo di fare la propria parte. Quindi non si capisce assolutamente cosa sia stato fatto per l'attività produttiva, non si è saputo dalla voce dell'assessore che dovrebbe rispondere al Consiglio regionale quali sono le eventuali progettualità, perché qui è evidente che si tratta se di mettere in sicurezza la strada attuale ma anche di trovare un'alternativa perché non può essere un'intera valle ostaggio di una sola via di comunicazione, questo mi sembra evidente. Inoltre, completamente mancante, un'analisi delle cause che hanno causato la frana. Quindi bisogna capire quali sono le poche armi che abbiamo a disposizione noi come regione toscana contro il cambiamento climatico. È ovvio che noi non possiamo influire come regione su un processo mondiale ma possiamo aumentare la resilienza dei nostri territori evitando i tagli indiscriminati dei boschi che tutti sanno sono la principale soluzione contro le frane. La regione si è mossa da subito per dare una prima risposta ai pendolari quindi la parte del rinforzo dei treni, l'integrazione ferro-gomma quindi con una disponibilità di avere un trasporto su ferro che sia veramente importante e peraltro dovrebbe essere anche una soluzione che rimane anche nel futuro perché questo ci consente di utilizzare un'altra viabilità. Dopodiché la regione toscana insieme alla provincia di Prato hanno stanziato subito le risorse per la somma urgenza 2 milioni e mezzo per la frana di Vaiano a Camino e altri 900 mila euro per la frana di Sasseta che era l'altro pezzo che bloccava e che metteva in difficoltà anche tutta la parte delle industrie e delle imprese che sono molto presenti e importanti in questa zona. Quindi l'avere la somma urgenza e la disponibilità di risorse ci consente da subito di lavorare per provare ad aprire almeno un senso unico alternato prima possibile. La parte finale sarà quella di mettersi a un tavolo questo in un secondo momento, sto parlando del lungo periodo per capire quali siano le alternative alla 325. Antenne radio, nuove linee guida Via Libera è la nuova legge regionale di modifica della disciplina in materia di radiocomunicazione. L'atto è stato approvato con 19 voti a favore 5 contrari e 8 voti di astensione. La nuova norma introduce degli obiettivi per assicurare un servizio migliore promuove sistemi informativi a supporto della qualità delle comunicazioni e delle coperture di reti a banda larga semplifica gli adempimenti amministrativi a carico dei gestori dei servizi di rete e telefonici. Tra le finalità della legge, le nuove disposizioni a sostegno dei comuni, con nuovi criteri fissati per l'adozione del programma comunale delle infrastrutture, strumento utile per favorire la migliore localizzazione degli impianti nel territorio. Gli antilocali potranno individuare le zone preferibili per collocare le antenne e quelle non idonee alle installazioni. Il programma comunale delle infrastrutture potrà essere costruito anche attraverso processi partecipativi. Sarà implementato il catastro regionale degli impianti e delle infrastrutture e viene introdotta una nuova sanzione amministrativa pecuniaria sull'intralcio alle funzioni di controllo. È stato inoltre affrontato anche il tema dell'esclusione dei cosiddetti microimpianti dai piani strategici degli operatori da realizzare soltanto se collocati su infrastrutture portanti già esistenti. Nessuno di noi vuole costruire elementi di ostracismo all'innovazione tecnologica, ma vogliamo che ai nostri sindaci sia data la possibilità di individuare aree dove si possa escludere la collocazione di nuove antenne, soprattutto se vi sono presenze di scuole, ospedali, caserme, carceri o qualsiasi altra localizzazione che si approssima a edifici e a concentrazioni urbane con alta densità abitativa. Questo è un minimo ruolo che comunque deve essere messo a disposizione degli enti locali e noi faremo il modo, e possibilmente anche incentivandoli se riusciremo anche con misure adeguate, anche di carattere economico, perché i comuni si dotino di piani delle antenne, i cosiddetti piani delle antenne, per evitare appunto quelle sovrapposizioni e al tempo stesso per garantire che tutte le aree abbiano un'adeguata copertura. La Giunta ha presentato una proposta di legge per modificare la legge regionale 49-2011 alla luce dell'ultima direttiva che impone di fatto agli Stati membri di realizzare le infrastrutture per il 5G, cioè per l'ultima generazione di telefonini per farsi comprendere e naturalmente di servizi digitali. È una norma in chiaro scuro perché al di là di alcune semplificazioni elimina però dall'obbligo di accatastare nel catastro pubblico degli impianti i microimpianti che sono quelli in realtà che stanno riempiendo le nostre città. Basti pensare che attraverso le audizioni di ANCI ed ARPAT abbiamo saputo che in Italia saranno installate nei prossimi anni oltre 100.000 antenne e in Toscana non meno di 7.000, il che vuol dire evidentemente che aumenterà il livello di inquinamento elettromagnetico che dovrà essere tenuto sotto controllo secondo il principio di prudenza che vige a livello europeo. La Lega ieri è intervenuta anche su questa tematica e ha votato contrario a questa proposta di legge in quanto riteniamo che non ci sia stata sufficiente attenzione verso quello che sono le prerogative dei comuni perché i comuni sono i punti di riferimento centrali. C'è un tentativo di accentrare il potere della organizzazione e della messa insieme di quelle che sono le nuove normative che riguardano le antenne che rischiano di non permettere ai comuni quell'azione di equilibratura, di confronto fra le esigenze pubbliche. Penso alla salute, penso ovviamente anche alla necessità che la comunicazione sia facilitata attraverso questi strumenti nelle zone periferiche con quelli che sono di altrettanto legittimi interessi dei gestori. Qui si crea l'ennesimo problema tra il progresso e l'ambiente perché è vero che noi si va verso il 5G, il 6G e poi va a sapere che cosa però ci sono le aree interne che rimangono sicuramente penalizzate. Qualsiasi azienda, ovviamente etimologicamente, vuol dire fare profitti e quindi è meno interessata a poter perseguire la copertura di tutto il territorio ma come politica, come pubblico noi dobbiamo fare in modo che questo succeda. Noi abbiamo votato convintamente questa legge che va nella direzione dell'innovazione il 5G serve all'evoluzione, serve allo sviluppo, serve uno sviluppo responsabile ai comuni viene chiesta una grande assunzione di responsabilità la possibilità di definire nei propri territori zone idonee, zone sulle quali si possono installare o non installare delle antenne, si possono fare dei percorsi di partecipazione e di informazione, quindi sia allo sviluppo, sia ovviamente alla tecnologia, sia alle nuove tecnologie a servizio della complessità dell'innovazione tecnologica dentro un quadro di grande rispetto del paesaggio toscano e soprattutto della salute dei cittadini. Per questo è fondamentale definire una legge, la Toscana si dota di una normativa innovativa all'avanguardia sotto il punto di vista nazionale e anche internazionale, devo dire che le tutele previste dalla nostra normativa sono un unicum. Ci sono due elementi da contemperare e che questa legge potrebbe fare se solo fosse adeguatamente finanziata, che è ciò che abbiamo chiesto con l'ordine del giorno le esigenze di rafforzare tutto quelle che sono l'impiantistica e le necessità che vengono ad avere una rete digitale efficiente anche nelle aree periferiche cosa di cui la regione parla da anni ma che ancora non è riuscito a fare abbiamo una copertura a aree grigie che ancora non sono coperte e nello stesso tempo tutelare l'ambiente da un eccesso di onde elettromagnetiche. Per fare questo serve un monitoraggio. Questa legge potrebbe andare in quella direzione, cioè riuscire a fare un monitoraggio di quello che è l'inquinamento ambientale e capire anche quindi dove si possa fare nuovi impianti, nuove antenne, ripetitori senza però danneggiare eccessivamente l'ambiente e soprattutto calcolare quali sono i danni, anche i possibili danni per la salute umana. Questo è un altro aspetto fondamentale. Però senza dare dei soldi a questa proposta di legge non si saprà né come fare il monitoraggio e soprattutto ancora oggi mancano soldi per fare queste reti di telecomunicazioni e avere la banda larga, la fibra soprattutto per le imprese e per le aziende pubbliche, le amministrazioni e quant'altro. Unanimità per la pace a Gaza. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato con voto favorevole all'unanimità una mozione per un cessate il fuoco immediato della guerra nella striscia di Gaza. L'atto è stato presentato da Silvia Noferi del Movimento 5 Stelle ed emendato da Francesco Gazzetti del PD che ha aggiunto quindi la sua firma. La mozione impegna il Presidente e la Giunta regionale, nello spirito dell'articolo 11 della nostra Costituzione, a chiedere al Governo, con la massima determinazione di attuare tutte quelle iniziative utili per un processo di pace in quella regione che prevedano il cessate il fuoco immediato, la liberazione degli ostaggi, il ripristino delle condizioni che consentano alla popolazione civile di Gaza di ricevere tutti gli aiuti umanitari necessari. Le immagini di dolore e di disperazione che arrivano da quelle zone sono veramente terribili e ritenevo giusto che il Consiglio regionale della Toscana si esprimesse al riguardo. Ricordo che avevamo già approvato una mozione di condanna dei fatti del 7 di ottobre che ovviamente sono antiterroristici, però nello stesso tempo era giusto dare un segnale e una presa di posizione anche su quanto sta accadendo a Gaza. Siamo oltre 30.000 morti, la maggior parte bambini, migliaia di orfani, di feriti, strutture civili distrutte. Io credo che veramente bisognerebbe trovare il coraggio di fermarsi perché a volte la pace nasce dal coraggio. Come gruppo del Partito Democratico abbiamo approvato con convinzione questa mozione che è stata presentata inizialmente a prima firma dalla consigliere del Movimento 5 Stelle Noferi che ringraziamo anche perché ha accettato dei nostri emendamenti. Uno di questi evidenzia con forza e con nettezza la condanna del Consiglio regionale rispetto alla strage perpetrata dai terroristi di Hamas a ottobre e al tempo stesso nell'impegnativa si mette in evidenza la necessità di una richiesta di un cessato il fuoco immediato, il rilascio degli ostaggi e poi anche mettere in atto tutte le possibili azioni per la salvaguardia ovviamente della popolazione civile nella striscia di Gaza. Per fortuna il Consiglio regionale non si è diviso su questa questione, anzi ha in maniera unanime unito la propria voce a tutti coloro che chiedono una risoluzione per quello che sta accadendo in Medio Oriente. La risoluzione ovviamente per quanto ci riguarda è soltanto un invito perché il Consiglio regionale ovviamente non dipende dal Consiglio regionale il cessato il fuoco in Palestina ma da oggi in poi anche il Consiglio regionale della Toscana ha unito la propria voce a chi chiede un immediato cessato il fuoco, una liberazione degli ostaggi israeliani che ancora oggi stanno tra le grinfie dei terroristi di Hamas e la possibilità che arrivino a Gaza tutti gli aiuti umanitari che viva Dio da tutte le parti del mondo ci stiamo attrezzando per portare la popolazione palestinese. Anche la Toscana quindi chiede questo e lo chiede per fortuna in maniera unanime. Sì ho sostenuto la mozione che chiede la pace in Palestina, è evidente che Israele ha diritto e il dovere di esistere, la Palestina è uno Stato che ha diritto e il dovere di esistere, deve essere riconosciuto, serve di riconoscersi tutti quanti nel messaggio del Papa che chiede un cessato il fuoco, che chiede la capacità alla politica di negoziare, che chiede la capacità di potersi mettere a sedere e serve uno scatto ulteriore dell'Europa come soggetto in grado di mediare, serve dare una mano a quelle popolazioni islamiche che sono riformiste, che provano a costruire anche nei loro territori una stagione di pace, serve una stagione di pace in Medio Oriente e così come serve una stagione di pace in Europa e serve un'Europa più forte in grado di costruire un punto di mediazione e di incontro. Grazie per la visione!